Siamo qui con un altro espositore, Miotto e Zanella, che ci ha fatto vedere una macchina che arriva a pendenze anche abbastanza importanti, snodata, con torretta orientabile, ci dice qualcosa di questa. Questa è una macchina nata dalla collaborazione tra il gruppo Caron e Lockman Atomizzatori, è una macchina nata dall'esigenza di portare tanta acqua in cima a un vigneto o a una collina, quindi è una macchina che può trasportare 10 etolitri di acqua, appunto con torretta orientabile, con atomizzatore o per il trattamento manuale, interamente scarellabile per un eventuale cassone o eventuale vasca da vigneto. Ecco questo, può servire anche per trasportare uva, merce, cucini. Non ha l'inserimento delle gambe, è interamente scarellabile, basta sconnettere il modulo di trattamento e si può allestire con il cassone che viene già data in dotazione o con la vasca in acciaio per la raccolta dell'uva, con una portata di circa 27-28 quintali di peso. Grazie Luca. Niente, salve. Grazie a tutti.